Inaugurato in via Sicilia Ponte Cagnano presso l'associazione Angeli del Cuore, il primo sportello della rete integrata di servizi per le politiche attive del lavoro sul territorio curato da Deaform. Nel corso dell'evento, organizzato con il patrocinio del comune di Ponte Cagnano-Faiano, sono state presentate le attività dello sportello, che vuole diventare un punto di riferimento per Ponte Cagnano-Faiano e per il territorio dei Picentini per chiunque desideri ricevere maggiori informazioni sul mondo del lavoro ed essere sempre aggiornato sulle opportunità offerte in materia di bandi e concorsi.